Io da campione di pallannuoto mi sono avvicinato al movimento paralimpico perché il mio sogno è portare questi ragazzi un domani a disputare un'Olimpiadi a livello pallannuotistico perché per adesso le Olimpiadi ci sono solo per il nuoto. Si svolgerà dal 16 al 18 giugno alla piscina Scandone il campionato italiano paralimpico di pallannuoto presentato nel pomeriggio a Palazzo San Giacomo. Detentore del titolo è la GLS Napoli Lions. La pallannuoto paralimpica è uno sport fantastico, vedere i ragazzi come si sacrificano tutti i giorni è una soddisfazione per me come presidente allenatore e per la nostra società. È un orgoglio anche per Napoli perché lo scorso anno siamo riusciti a fare una finale tutta napoletana. Speriamo quest'anno di riuscirci a ripetere. La competizione assegnerà lo Scudetto 2023. La finale è in programma per domenica 18 a mezzogiorno. È una bellissima soddisfazione ospitarli in questo fine settimana nel nostro fiorello occhiello che è la piscina Scandone. Sicuramente io credo che abbiamo più possibilità di vincere la candidatura a Capitale Europea dello Sporto 2026 se creiamo eventi del genere. Soprattutto ci distinguiamo per quella che è una nostra attitudine all'inclusività e al supporto rispetto a tutti quanti quelli che sono gli eventi sportivi soprattutto quelli più particolari come questo. Davvero mi piace sottolineare come a Napoli, come ci sono più squadre nella provincia di Napoli che si stiano sviluppando e stiano facendo un ottimo lavoro. Sembra che gli iscritti aumentino, che le squadre e le società sportive che facciano queste attività siano in netto aumento. Quindi davvero è una bellissima cosa e una bellissima risposta da Napoli.